Sono oltre 2.500 i profughi ucraini che nelle ultime ore sono arrivati in Toscana e il numero è destinato a salire. Di questi l'altra grande maggioranza ha trovato ospitalità in autonomia presso privati. Le linee guida attualmente in atto per l'accoglienza condivise con le prefetture, i comuni, Anci e UPI sono state raccolte in un memorandum presentato dal presidente Eugenio Gianni che è ringraziato per la straordinaria generosità che la Toscana sta dimostrando a tutti i livelli in questa circostanza. Le linee guida raccolte nel memorandum sono principalmente focalizzate sui cittadini ucraini presenti in Toscana sia che abbiano già disponibilità di un'autonoma sistemazione o che non ce l'abbiano e su cosa deve essere fatto entro le 48 ore dal loro arrivo. Nello specifico spiega il presidente Gianni. Anche l'Ucraino che va in una casa privata deve registrarsi in questura che per avere le informazioni vi sono due numeri, quello dell'emergenza sanitaria ovvero quello per avere informazioni sull'aspetto sanitario, tamponi, vaccinazione che è il numero verde 855 60 60 e poi il numero che viene calibrato provincia per provincia di riferimento alle prefetture per avere invece le informazioni più generiche. Gianni ha anche ricordato che la regione sta predisponendo due grandi punti di accoglienza come annunciato nei giorni scorsi. Avremo due punti d'accoglienza hub grandi che saranno per il centro della Toscana alla Mercafir all'uscita dell'autostrada Firenze e sarà attivo dalle 8 alle 20 fin da domani e a Livorno ci vorrà qualche giorno in più per attivarlo. Ringrazio la disponibilità del Comune Livorno al Sindaco Salvetti al Palasport al Palamodigliani.